Oggi farò una torta con uva sottanina, qui abbiamo 400 grammi di farina, 3 uova, 150 grammi di zucchero 150 grammi di burro 150 grammi di uvetta sottanina, l'ho messo all'acqua per 15 minuti Poi abbiamo una busta di lievito, canellina e mezzo bicchiere di latte Adesso facciamo lo zucchero e il burro, mettiamo e burro Impastiamo a venire bello omogeneo e e a a se si va sciogliendo poco alla volta ecco adesso aggiungiamo le 3 uova e a 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 ecco cos'è ora versiamo nel mezzo bicchiere di latte e mescoliamo vediamo con a a a a ecco un pasto adesso mettiamo l'ovetta l'ho messa a scocciolare e asciugata bene a 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 75 gradi per 45 minuti circa ecco pronta a dopo la tarta è pronta ecco ora mettiamo lo zucchero al vero di sopra a 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 ecco è venuta favolosa ora la taglio una fettina a ecco è venuta buona ecco ecco ciò bene da buonissimo alla prossima a a a